Il giorno dopo Veti e Dictat, l'atmosfera resta rovente tra i possibili alleati di centro-sinistra e le amministrative di Padova, diretto il PD per voce del segretario cittadino. Pretendiamo da chi vuole fare coalizione assieme a noi che ci sia un atteggiamento di fiducia, di rispetto ed è quello che chiediamo anche a coalizione civica. Se si mettono i Veti ai nostri alleati è evidente che quella condizione di fiducia viene a mancare. Lo spettro del 2014 agita le acque in via Beato Pellegrino e coalizione civica allora Padova 2020 resta una spina nel fianco. Nella giornata di vigilia delle primarie a tre, Curi, Rizzetto, Lorenzoni, anche in casa coalizione civica c'è aria di correnti con Davide Sabbadine che ai nostri microfoni si esprimeva così solo 24 ore fa. Non vogliamo che dentro questo perimetro delle primarie, questo accordo politico ci siano anche quelli che hanno sostenuto e governato con bitonci. Parole non certo sovrapponibili a quelle di Luciano Greco. Nomi nei dispositivi non ce ne sono e che non vuoi che ci sia per dire Luciano Greco è un'interpretazione. Invece ci si siede e si discute anche di queste questioni qui. Non vorrei che l'alleanza di centrosinistra fallisse perché c'è tizio o perché non c'è tizio. Serve un incontro con il PD in settimana all'invito di Luciano Greco che su un punto è in piena armonia con i compagni. Le primarie di coalizione e qui arriva il PD. Le primarie di coalizione per noi non sono un elemento necessario nei rapporti che abbiamo con gli alleati attuali. Aria di separazione ancora prima di un agognato matrimonio possibile visto il clima. Se da una parte di coalizione civica parte un appello alla ragionevolezza, dal PD arriva un invito. Noi ovviamente li invitiamo a prendere le distanze da chi ha avuto toni eccessivi nei confronti del PD e nei confronti di Giordani e di sostenere il nostro progetto che è l'unico che può vincere contro Massimo Bitonci.